Sì, eccoci a Maurizio, sale morta. Sì, eccoci a tutti. Sì, eccoci a tutti. Sì, eccoci a tutti. Musica di sottofondo. Arredi di un certo stile. Trovo anche Lagrassi. Welcome to Solana. Oh, il letto arredato. E la vista? Mare e palme. Aprile, prego. Ale! Siamo qua al Solana. Ci sono i pescatori che pescano. Sì, eccoci a tutti. 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 Ciao. Buon appetito. 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 Ciao a tutti qui siamo al lago del Gran Bassin dove c'è anche il Tempio Hindu Siamo al Tempio Hindu con la statua che è nemmeno un quattro per ora e con la statua che ha mangiato qualcosa e si è avvelenato, è tutta blu Sceva e lui invece è Ganesh e lei è quella dell'acqua, la regina dell'acqua Black River Gorgeous Park dall'alto Direzione cascata di Shamarell con il segno di Sceva che ora ci vedremo Grazie a tutti Cascata di Shamarell Siamo entrati alla cosa per cui siamo venuti alle Mauritius Al momento siamo arrivati alla terra dei sette colori, la terra dei sette colori E' una delle due cose per cui mi piaceva venire a Mauritius Pensiamo alla cascata di prima Cioè al mare No, qui, terra dei sette colori Cosa ti sei vista? Guardiamoci Ora arriverà anche il sole spero Così si vedono meglio i sette colori Sì 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 Buongiorno a tutti, è diretta da Unmaier, un quarto giorno di settimana bianca, però ci sono attraverso, la guida è congloca, e andando all'isola dei Cervi, stiamo arrivando all'isola dei Cervi, e poi ci sono i cittadini, e poi ci sono i cittadini, andiamo A presto Vai giù, vai giù, vai giù Vai giù, vai giù Vieni Vieni Senti? Trovava il tuo Stiamo guidando voi Come stai guidando te? Non è vero, non è vero Ciao Gabri Ciao Ti piace questo giro? Sì No, magari Non sai come è che bisogna guidare noi Sì, non mi piace Guarda, è qua tra l'isola di Cervia giù La striscia di sabbia, la lingua Ah Perché si va? Uuuuh Che c'è? Hai paura? Vai, ma se non si muove lui Lui ci ha fatto callare Paura? Sì Aaaaaaah L'acqua Vai giù Vai giù Aaaaaah Ma in certezza Vai ancora Gira, gira, gira Sto guidando Sto guidando io Ciao Ridi, ridi Ciao, ciao, ciao Ciao, dopo si fanno foto Gira, ridi Ridi Vai, vai Che bellissimo Guarda, guarda Guarda là, che bellissimo Della questa volta Dove siamo? Dove siamo? Le Maurizius Le Maurizius Sotto il sole Sotto il sole Di Maurizius Di Maurizius Ancora così Gira, gira, gira E te non ci volevi venire E ora c'è anche da atterrare Vai, io ho paura Eh, c'è da atterrare ragazza Gaby Ehi, ciao Che video 4k questo Basta Basta Sara è contenta Perchè ha trovato un niccio Ora cerca le stelle marine Cerca È venuta qui apposta Siamo all'isola dei Cervi Per le stelle marine Per le stelle marine Sì, meglio Portalo via Portalo via là Perché non c'erano pesca Oh Isola dei Cervi Devo dire solo là Voleva le stelle marine Infatti ora aveva pianto Però ha trovato queste E si muovono anche queste Ma io voglio una stella marina Ma non c'è la stella marina Sì che c'è C'erano tutti Non è vero C'erano tutti Non riparti più Se ti beccano una stella marina Bello però avresti Sembrano Guarda Fa vedere Sembrano seni Te lo sto per dire Antifurto Brava Metteteli quando non ci so io Abbiamo adottato Io Sara e il nostro amico Paguro Saluta L'abbiamo adottato Ciao 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 C'è anche lei Ciao ciao Anche io voglio Anche io Tu vuoi un bacino? Ti puoi vedere che mi fa un fermato? Mi fa anche un fermato da voi Saluta Ciao Leggerissimo acquazzone tropicale Ma noi ancora abbiamo paura Siamo a Canoa Buongiorno Ciao Ultimo giorno al villaggio E oggi facciamo tutte le attività di mare Facciamo bellissima ragazzi Ciao 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 Guarda il mare davanti quanto è bello È tutto colorato Questo è il nostro villaggio Bellissimo ci dispiacerà tantissimo tornare a casa Sta diventando un po' nuvolo Ciao 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 a tutti Di nuovo qua al Solana Ci sono quelli che fanno il paracadute E poi ci siamo noi Siamo un canoa Gabriele Ciao 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 Siamo un canoa con un bellissimo mare Non è da tutti La Dementia De Mauritius Non è da tutti No Canoa E' qualcosa E' qualcosa Che cosa è? E' qualcosa Eccola qua Eccola qua E' qualcun'è città Guarda Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti